Eccoci, dove andiamo? Oh, adesso siamo fermati, dove stiamo? Sono in casa di Filippo Vai, andiamo Non sono deficienti C'ho i bambolotti Mi raccomando, controllala Controlla lei e lui, ok? Io vado, ciao ciao Io vado Mi raccomando, fa il bravo Adesso arriva Filiberto, ciao Ciao Ho appena lasciato i nonni Perché ci sarà una sorpresa per loro Venite con me Eccomi qua, sono solo a casa Chissà cosa succederà Pronto? Oh, ma guarda, seguete voi una pranzia? Mi è parcheggiato di qui? Sto arrivando Come si sono comportati? Io te ne consegno come sono Va bene Ma come si è comportato uno in particolare? Uno in particolare? Malissimo Oh, mi pare di riparare il riso Oh, adesso andiamo a fare un bel giro No, facciamo un giro Ah, questo giro Ah, questo giro Adesso andiamo su un posto bello Ma non voglio diverso in una parte Mi vuoi portatacata Ma non voglio portatacata Ma non voglio portatacata Però non voglio portatacata Ma non voglio portatacata Ma non voglio portatacata Ma non voglio portatacata Ma adesso c'è una sorpresa Ok? Siete pronti? Oh no, fa la faccia da pronto Più pronto Che faccio? Una bomba? Ma che bomba, sì no ho i piedi molli fa la faccia da pronto chi senti? fa la faccia da pronto io voglio affisciare buongiorno buongiorno ma guarda ha fatto la scufa nuova ma grazie non mi arrivo qui ma grazie guarda un po' quanto è bella mamma mia che spettacolo guarda eccola grazie grazie tanto sei contenta? piacere signore sei contento? sono contento sì ma guarda un po' quanto è bella ancora ci crede grazie mille anche appunto calor Francavilla al mare grazie ma io grazie è un po' tardi per mangiare oggi però alla fine eccolo anche tu sai anche tu sai sei complice sei contento o no? ti piace? ma sono contento mi piace ma ma la vecchia lo sta è buone anche il telecomando che spesso si mette in immunità ottri e tu ci pigi quell'altro che le pigia sempre capito? hai capito o no? questo lo pigi con il naso si pigia questo così sta fermo se non muozi quindi oh sei contento o no la vecchia sta stufa? ma certo che sei contento tanto tanto grazie 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 grazie